La prima volta dopo tanto tempo che vedo l'arcobaleno, sta venendo bel tempo, ecco là in fondo, sopra il lago Maggiore, mi trovo nella città di Arona, oggi pomeriggio ho girato tutta questa città, mi è piaciuta, ci sono tantissimi negozi, c'è anche l'ospedale, di fronte a me là ho la rocca di Angera e di fronte a me l'arcobaleno, anni che non vedo questo spettacolo di colori abbinati assieme, sono nel lungo lago del lago Maggiore, l'acqua è bassa, però è un bel luogo qui, è vicino anche alla stazione dove in un'ora e un quarto si può arrivare a Milano alla stazione di Porta Caribaldi, Youtube l'arcobaleno di Arona